La nuova visione estetica come propulsore d'arte moderna e contemporanea dopo il successo della passata edizione e il record di presenze Genova Start la notte bianca dell'arte genovese ritorna giovedì 5 ottobre dalle 18 alle 24 nel cuore pulsante della città vecchia con un opening comune straordinario. La rasegna, che anche quest'anno vede i protagonisti delle principali gallerie d'arte moderna e contemporanea della città arriva nella settimana che precede i Rolly Days dopo aver registrato nelle passate edizioni il pieno di presenze. Start si presenta proprio come un insieme di inaugurazioni in luoghi diversi che però sono all'interno di un circuito cittadino, quindi le persone possono camminare e l'idea è proprio quella di vedere delle mostre ma di vedere anche il centro storico e tutto quello che accade. Ci sono delle nuove realtà e ci sono anche delle realtà che hanno raddoppiato le loro location proprio per invadere in qualche maniera il centro e quindi allargare ancora di più i punti di interesse all'interno della città. L'edizione di quest'anno si distingue anche rispetto a quello dell'anno passato perché c'è più coinvolgimento del territorio. Speriamo che nei prossimi anni possa anche ampliarsi. È molto importante sentire che comunque istituzioni, quindi la Regione, il Comune, la Camera di Commercio soprattutto la Commercio ci hanno aiutato nel cercare di comunicare al meglio la manifestazione. Tra l'altro quest'anno dal 4 al 5, quindi mercoledì e giovedì, ci sarà in Piazza De Ferrari un gazebo marchiato Start che farà l'Info Point. Ci saranno due persone che distribuiranno le piantine e le informazioni per potersi godere appieno la serata. Ci devo dire grazie per tutte queste gallerie che negli anni continuano con la promozione di una manifestazione che porta persone nel nostro centro storico, nelle sere del nostro centro storico e soprattutto devo dire un legame forte di una collaborazione pubblico-privato. Devo dire che con il Cia Bando Centro Storico, con il Cia Bonus, abbiamo veramente un alto numero proprio legato con le gallerie d'arte. Quindi questo è un bel messaggio che credo venga lanciato alla città tutta che parte dai nostri vicoli e fa comprendere quanto bisogno sempre di arte e bellezza vi è. Confommercio crede che una città che abbia dinamismo intellettuale sia una città sana, viva e che possa dare anche al comparto del commercio quindi un maggiore sostegno. E proprio oggi stiamo a presentare un'altra attività importantissima in questo senso e abbiamo sensibilizzato i nostri associati, in particolare del comparto del food e della somministrazione, a stare aperti durante questo evento proprio per dare quel senso di coralità di cui la città ha bisogno.